Andiamo verso Petra. Il Monte Nebo è il luogo da cui, secondo la tradizione, Mosè contemplò per la prima volta la terra promessa, che non riuscì mai a raggiungere. Il patriarca morì all'età di 120 anni e fu sepolto nei pressi del monte, ma gli studiosi non concordano. Questa è la chiesa di San Giorgio. Questa è la mappa della Palestina più antica al mondo. Siamo a Carac. Ora ci siamo rifiutati di andare al posto che ci aveva consigliato la guida della stessa compagnia che ci aveva il nostro autista. Adesso entriamo nel famosissimo, leggendissimo castello. Alla prossima. Ciao. 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 tutto questo stiamo viaggiando con una macchina elettrica viaggiamo senza inquinare abbiamo trovato l'oste è questo questa è la nostra piccola stanza a guadimusa domani sveglia all'alba per petra ricordate quella storia che dicono che nel deserto non piove mai ne ho vero